Sono qui con Alessandra e Enrica che molto gentilmente mi hanno portato la coppia della guida alla ristorazione del mio 23 dove c'è anche l'agriturismo ma che per il castello. Vi invito a scoprire qua tutti i segreti del castello e vi aspetto. Buongiorno a tutti, sono Bruno Fortunato, presidente della Tre Secoli, cantina cooperativa Monbaruzzo Ricaldone. Sono felicissimo perché siamo vicino a Natale e abbiamo in presentazione la nostra nuova guida alla ristorazione 2023. Veniteci a trovare perché è fondamentale venire a assaggiare i nostri prodotti. Buon Natale, auguri a tutti. Ciao, sono Simona, proprietaria della locale dei profumi di Quattro Cascine. Ho appena ricevuto la guida 2023 alla ristorazione. Veniteci a trovare, il mio locale è molto intimo e romantico. Buon Natale a tutti voi. Hai visto che bella? Sì, è arrivata la nuova guida alla ristorazione del 2023. Ma ci siamo anche noi! Veniteci a trovare! Ciao a tutti, io sono Niccolò Capatti della Pasticceria Giardini di Novi Ligure e oggi finalmente è arrivata la guida alla ristorazione e anche quest'anno noi ci siamo!